Stavolta i numeri non hanno concesso il BIS. Se l'estate 2020 ci aveva regalato una tregua dalla pandemia, quella del 2021 si è da subito presentata più complessa. Tanti troppi contagi Covid hanno reso la vita difficile ai turisti e alle agenzie di viaggio, soprattutto per ciò che riguarda le destinazioni più lontane. Di contro il movimento sul territorio nazionale si è fatto significativo e la meta Abruzzo è stata un successo. Sì, dobbiamo dire che tutte le attività economiche che operano nel settore del turismo, con questo successo del turismo di prossimità, che fortunatamente ha salvato la stagione per tante attività, ha reso l'Abruzzo tra le regioni più gettonate e più richieste. E quindi chiaramente sulla costa si è registrato il tutto esaurito e anche all'interno, comunque con il cosiddetto turismo esperenziale, tanti hanno voluto scoprire le nostre meraviglie del nostro territorio che comunque meritavano da tempo un successo come quello che c'è stato adesso. Chiaramente manca il turismo straniero, cioè gli americani, i giapponesi, quindi questo turismo che comunque vale due terzi del turismo che abbiamo in Italia. Quindi solo col turismo italiano purtroppo non possiamo salvare la stagione. Qual è la meta preferita di un pescaresa o dei pescaresi? Beh, è chiaro che è stato quest'anno la Puglia e la Sicilia, quindi rimanendo in Italia, è chiaro che noi abbiamo per esempio da rivitalizzare soprattutto la Croazia e la Grecia che sono destinazioni importanti e quindi chiaramente dobbiamo far ripartire anche il nostro porto di Pescara. Certo per un bilancio dell'estate è ancora presto perché si spera che insomma settembre abbia ancora un'onda lunga, però un primo consuntivo lo possiamo fare. Si dice che l'Abruzzo stia andando molto bene. Sì, l'Abruzzo come il resto dell'Italia è andato bene, direi che possiamo essere soddisfatti. La richiesta più evidenziata è verso le strutture turistiche di campagna, di collina, di montagna, ma le strutture particolari della campagna. Le case di ex contadini ristrutturate, ben messe, chiedono naturalmente, soprattutto gli stranieri, chiedono la piscina, chiedono le attrezzature per bambini. Sono turisti che vengono dall'estero, dal nord, ma soprattutto dal nord Europa. Il mattino vanno in giro e il pomeriggio vogliono godersi la struttura, quindi relax, i bambini giocano, loro leggono una rivista, un giornale. Dunque l'incoming in Abruzzo è stato un successo, sia per le spiagge terramane o pescaresi e per la costa dei Trabocchi, che per il trekking sul Gran Sasso o sulla Maiella. Tuttavia, il nostro lavoro non è solo l'incoming, anzi è una minima parte l'incoming, il grosso lavoro, cioè l'outgoing verso l'estero, è praticamente stato fermo, è stato fatto qualcosa verso le capitali europee, poco ma si è stato fatto, per il mare, la Spagna, la Grecia, il resto solo crociere. Le crociere sono andate bene, diciamo che sono andate bene perché la struttura della crociera è organizzata per il Covid in maniera eccellente, direi, e sicura soprattutto.